buongiorno 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 sto cazzo ma che stai facendo questo appare? fammi vedere fermate fammi vedere fammi vedere che è ma che è questo? che è? questo ad agendare la bottiglia e dopo dove va? è dopo il zucchero nooo allora io ho un nonno che fa sempre i lavoretti vero no? che stai facendo? ti trema il braccio? ti trema il braccio? che ti trema? ah il cazzo nooo che stai facendo? guarda non sei bellino ma non penso aia è tanto carino fanno fare queste cose eh? sei contento no? io sono sempre contento io non sono mai scontento ma non e tu mi dici che ho visto qualsiasi cosa anche per i carabinieri nooo nooo si sbagliano anche i giorni? si e lui no lui no? e facciamo il presepino? aaaaaaah e facciamo un no? non facciamo niente? no facciamo il presepino? no facciamo il presepino? non c'ho i bui di cose che è? non c'è? non c'ho le statue non c'ho niente io te ne trovo io per fare il presepino? beh beh valla a trovare il presepino no guarda che è stata d'acqua eh! no io sono a pianti voglio fare il presepino un pesipò aaaaaaah addio scalzo! nooo eccolo ah vedi c'è un presepino vedi stanno da per tutti i presepini eccole è scalzo grazie a tutti